Intanto il dato, cioè gli unici aiuti ricevuti tranne quelli diretti dei cittadini, sono i pochi soldi che abbiamo potuto destinare come amministrazione, ovviamente come comune diciamo. Dalla Regione sulle aziende non è ancora stato stanziato nulla, lo Stato promette che lo farà l'anno prossimo. L'unica cosa non aggiornata è il dato della restituzione, cioè loro non li dovranno restituire questi soldi perché grazie a Dio le donazioni sono state sufficienti e i danni poi richiesti non sono stati così alti come ci aspettavamo e quindi di fatto la Fioreria Masato non dovrà restituire questi 4 mila Euro che siamo riusciti a dare. Perché 4 mila Euro? Perché il 90% dei fondi che abbiamo ricevuto e che sono donazioni dei cittadini, tranne 40 mila Euro che abbiamo destinato noi come comune, quindi sono proprio la solidarietà della comunità. Questi fondi li abbiamo destinati al 90% sulle case, quindi prima di tutto il tetto e chi lo ha perso e per una quota simbolica, cioè il 10% alle aziende, sapendo che sulle aziende non possiamo fare la differenza. Katia, che conosco anche abbastanza, ha citato i danni sulla sua che sono oltre un milione. A Mira abbiamo più di 5 milioni di danni sulle aziende e tutto quello che abbiamo raccolto è sui 400 mila Euro, quindi sulle aziende non possiamo veramente fare la differenza. Poche decine di migliaia di Euro invece su una casa, su un bilancio familiare cambiano completamente la situazione. Nel nostro caso l'hanno cambiato tra poter avere un tetto e non averlo.